Buonasera a tutti, stasera ho cambiato location, sono nella location Luisa Trendy Uomo vi propongo un bellissimo outfit pantalone e cammello modello baggy, mano e rizzo con la sedlina a ciondolino dove differenzia l'azienda fattine sul retro, molto bello indossato, bello proprio anche il colore lo abbiniamo con il grigio melange, un bel lupetto in lana sempre di mano e rizzo grigio melange, quindi cammello e grigio melange, sono i nuovi accostamenti completiamo col cappottino sempre grigio di mano e rizzo, sempre con la sedlina, notate? già che qua, si, molto bella, linea slim, doppio petto, quindi cappottino, modello del pantalone baggy, cammello e lupetto grigio melange per chiudere questo outfit in bellezza, la sneakers Manuel Ritz bianca con riporto beige molto molto bello, l'ho getto qui, in pelle, una bellissima scarpa guardate che bel outfit vi ho proposto per quest'autunno-inverno questa è la nuova collezione autunno-inverno vi ricordo che potete pagare in tre rate a presto, ciao!